Bella a tutti ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Spero che il video di ieri sulle mappe di Fortnite vi sia piaciuto E ho visto che in tanti mi avete scritto che è una mappa fake Sì, avete tutti quanti ragione, lo so anche io ragazzi Infatti come ripetevo all'interno del video, era solo una modifica della texture Mi piaceva solamente il fatto di portarvi all'interno del canale Una sorta di mappa che potrebbe somigliare a quella futura, quindi della stagione 5 In quanto avevano modificato la texture dell'intera mappa Facendola diventare una sorta di deserta e la cosa mi piaceva tantissimo Comunque oggi ho trovato delle foto e delle informazioni che potrebbero riguardare qualcosa che è all'interno della season 5 Qualcosa che ci sta cercando di dire la Epic Games Perché ormai abbiamo capito che la Epic parla solamente tramite codici Non vuole svelarci il tutto ma ci fa divertire tramite dei messaggi nascosti Infatti voi non so se avete seguito la vicenda che riguarda la comparsa di alcuni lama in determinati luoghi dell'Europa In quanto ne è stato trovato una all'interno di una cabina telefonica a Londra, quindi in Inghilterra Un'altra a Barcellona, quindi Spagna Poi ne è stato trovato addirittura un altro in Colonia, quindi Germania A Varsavia che si trova in Polonia E l'ultimo in Francia a Canne Quindi siccome questi lama sono stati piazzati in determinate posizioni dell'Europa Può darsi che la Epic voglia farci tracciare una sorta di segno su quella che è la mappa europea Oppure sono stati messi lì a caso giusto per mettere un po' di hype per la stagione 5 Tornando a quelle che sono le posizioni in cui sono stati trovati questi lama, quindi Varsavia, Londra, Colonia, Barcellona Possiamo tracciare una sorta di disegno tra di loro, tra tutte queste città Come hanno fatto appunto i ragazzi del Battle Pass Dove appunto vanno ad unire le diverse location con delle linee e vanno a formare una piramide Anche se in questo caso poi si va a formare una piramide che ha solamente tre lati Ok tutto quadra finora perché sembra che la Epic ci stia dando davvero dei messaggi in codice Però ragazzi all'interno di questa immagine manca una location che è quella francese Infatti all'inizio video vi ho detto che non sono 4 i lama che sono stati trovati, bensì 5 Quindi questa immagine potrebbe portarci a qualcosa ma allo stesso tempo no Quindi adesso mi viene solamente un dubbio ragazzi Se queste piramidi fossero confermate all'interno di Fortnite La questione della maschera che è stata pubblicata ieri su Twitter In cui tutti abbiamo detto, compreso me, che forse sarebbe stata una maschera di Kitsune Quindi della cultura giapponese e non una maschera che riguarda l'Egitto Tutto si andrebbe ad annullare perché crederei di più alla questione degli egizi Comunque staremo a vedere in queste ore con maggiori leaks Anche perché oggi la pagina di Fortnite, quella ufficiale, dovrebbe pubblicare un'altra immagine che riguarda la stagione 5 Non so se ricordate quando stavano annunciando la stagione 4 In cui facevano uscire all'interno di quella che era l'immagine della season 4 Quindi andavano a spoilerare un eroe che sarebbe stato contenuto all'interno del Batbus una volta al giorno Per poi andare a completare tutta l'immagine Vedremo che cosa pubblicheranno oggi così magari la cerchia dei dubbi si ristringerà un pochettino di più Non c'è nulla di sicuro su queste piramidi ragazzi Sicuramente qualcosa ci sarà di nuovo all'interno della mappa di Fortnite Ma non so se riguarderà le piramidi Quest'immagine mi ha incuriosito parecchio come mi ha incuriosito anche il fatto dei lama Che sono comparsi in diverse città e volevo solamente informarvi su tutto ciò Mi raccomando commentate fatemi sapere alla vostra che cosa ne pensate al riguardo di tutte queste storie che riguardano Fortnite Noi ci becchiamo al prossimo video che riguarderà lo spawn dello scheletro a putrido pantano Ci metteremo camperati davanti a quel portale a putrido e aspetteremo la comparsa di questo scheletro Vi porterò subitissimo il video all'interno del canale Un salutone da Martex raga Sia brothers Ciao